Per questi qua, tra l'ottine roto Stai in braccio con una ragazza, stai in braccio con una ragazza e ti faccio la piede Lì, lì, lì Ok, 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 ok Diti lì, le bestie sono arrivate Eheheh, sei ne coriosi, stra... Ma... Ma chi è? Scendi dalla macchina Perché tra? Non si può Non si può Ma rifallo, 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 continui LE BESSIE! Scendi dalla macchina Scendi dalla macchina Perché dove scendere, no? LE BESSIE! LE BESSIE! Vabbè è stato bannato, sti cazzi Ma che coglione è spiegato A posto, a posto, a posto, l'ho bannato, a posto Ti avvicina pure Ciao Mattia01, succhiami il cazzo, pezzo di merda inutile alla società Non mi ha troppato niente No, non me ne ha troppato Gli altri si Non mi ha detto niente, ma aspettavo che mi troppasse qualcosa Alla 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 Grazie a tutti.